Il Campobasso non riesce ad andare al di là del pareggio contro la pari classifica Monticelli. Nulla di fatto al Selvapiana tra due squadre alla ricerca di una posizione di classifica più consono alle proprie ambizioni di partenza. Arbitra il romano Andrea Ancora. Gli Ascolani si fanno vedere la prima volta con l'attaccante pedalino. La conclusione esce non di molto alla sinistra di Palumbo. Per i locali si fa male in prota dopo solo un quarto d'ora di gioco. Ingresso in campo per il giovane D'Aversa. Qualche istante dopo il Campobasso sfiora la marcatura. Fioretti dall'interno dei 16 metri prova la conclusione al giro sul secondo palo. Graziato il portiere ospite Marani sotto la curva nord. I molisani spingono in avanti. Marani non si fa ingannare dalla punizione di Meduri attorno alla metà del primo tempo. Subito dopo tenta la via della rete anche Gulen. La girata in area dell'attaccante sfiora il legno. L'ultima conclusione degna di nota della prima frazione. La porta pedalino per la formazione bianca-azzurra di Stallone. Il tiro dalla media distanza si spegne a fondo campo. Chimpala propositiva a sinistra. Il portiere ospite smanaccia per evitare di raccattare in fondo alla rete 0-0 al termine del primo tempo. Al quarto della ripresa i molisani si riaffacciano dalle parti dell'estremo Manari. Il portiere marchigiano nega la rete ai padroni di casa deviando in angolo. Il Monticelli è rintanato all'indietro ma i lupi non riescono a scardinare l'attenta difesa avversaria. Alla mezz'ora il centrocampista Grazioso tenta ancora la via del gol dalla distanza. Manari brocca a terra. La partita si conclude con il Monticelli che cerca di sfruttare le poche occasioni create. Lotti alza la mira e il cuoio supera la traversa senza lasciare danni. Il pari ad occhiali consente ad entrambe di salire a 18 punti ma non accontenta quel che rimane del pubblico di fede rosso blu. Sempre più deluso dal cammino della squadra affidata a Raffaele Novelli.